che spettacolo così sì che è una favola 12 gennaio 2023 siamo sulla seggiovia chiavello nel versante di baltorta riprese con gopro hero 11 black 4k 60 fps super view in questo sesto video andremo a vedere le piste tre signori e nube bianca fatte in sequenza ma prima andiamo a goderci i panorami che ci regala questo punto di valtorta e un video selfie non può certo mancare si parte con la tre signori pista nera grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Nella pista numero 10 Nube Bianche, pista rossa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo potete seguirmi anche su Instagram dove trovate foto e reel e perché no anche su Twitter. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Siamo arrivati alla seggiovia Chiavello che ci riporterà in cima. Panorama favoloso. Adesso appena arrivo devo fare una pausa perché ho dimenticato di attivare il Garmin. Quindi tutte le piste che ho fatto fino adesso non sono state registrate dal Garmin. Nei video sì. E va bene dai. Capita. E ripetiamo il tutto. Quindi iniziamo con la tre signori pista nera. Sittà. Sittà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nella nube bianca, pista rossa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. I video di questo giro continuano. Ciao, alla prossima!